Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, io sono Kardeclintim e lui è Gippo, di nuovo, c'è ancora Gippo, ormai Gippo è un componente del canale fondamentale Oggi facciamo il nascondino figo Yeee, che han fatto anche gli iNub Andiamo La casa di Simpsons Adesso la sigla di Simpsons Va io penso di dover nascondermi, sì mi devo nascondere io Sì ti devi nascondere, io ti devo cercare malamente Allora Le porte si aprono Si aprono o si aprono? Mi trovi sicuro Sei nella casa o sei fuori? Eh non posso dirtelo Tu adesso dove sei? Io sono nel giardino della casa Ok Ma che cazzo Più forte di così si muore Il sbircio anche Questo Questo non si sperava mai Ancora morto mi trovo Ma come cazzo hai fatto? Ti ho visto muovere? Ma va a fare magno Guarda È stato bellissimo Cioè tu tutto felice Lui non mi troverà mai Cheat Aspetta un attimo Ma prendi danno se colpisci le robe sbagliate Ok Sei dentro la casa? No È fuori? Eh non te lo dico Mi vedi? No Sì Sì? Sì È in questa stanza dove Mi vedi? Non No No Questo non posso dirtelo Mi sono Sì mi vedi o meno No Non posso dire Se la senti vedo o meno Ah no Solo io tommai Questa È un genio Ah no Mi l'hai visto? No Allora Mi vedi Mi vedi Mi vedi Ma prendi danno se sbagli a prendere le robe Qualcosa di sospetto Acqua 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 Eccolo E qui No Perché si Con le casilenti Bastardo No qua non mi puoi trovare Dove cacchio sei? Giro anche Smi vado anche un po' Mi vedi? No Sono uscito adesso No cardo mi dispo Però non mi trovi più Parlo durante il caldo C'è il beep Mi fanno? Dai è facile Ma no sei dentro la casa Mi stai prendendo per il culo No non sono dentro la casa Eh no Te lo giuro non sono dentro la casa Rifischia? Ti dico mi sei passato davanti parecchie volte Adesso? Era giusta quella strada? Qua? Cardo Dove sei che sto saltando in giro? Guarda dove sono Bastardo Bastardo Ti ero dietro Adesso vero anche io il bastardo così eh Te lo dico subito eh No dai Chi sei? Adesso mi faccio pensare Ma ero nascosto Cosa c'è di male? Vedrei Chi è che sarà nascosto Allora Io so già Però devi farle anche tu Un botto di provocazioni Guarda che io ne ho fatto tante eh Non mi troverai mai So da che parte sei Vediamo dove può essere il cartone In mezzo alle veduglie? Ok Una l'hai fatta Sei sicuro una torta? No però c'è questa come bella cosa Devi fiscare in questo modo? Dai fisco un'altra volta Mi senti così? No In fornite In fornite Non fare l'infame Fisca a te Fisca in fornite Ok non sei qua Dai dimmi Dimmi però la verità eh Dai fischia fischia Cardo Eh Fischia 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 Ma non lo sento Cardo ma non è vero Che dice un passato vicino Sei in casa? Dai io te l'ho detto Sì sono in casa ah ok non sei in casa appena tu appena esplodono le porte mi vedi subito la police no ma non ci sei un povero no dimmi che non sei in una uiwola uh di qua so che sei di qua in che senso di qua e di qua dove sono io no ma è impossibile ma sei nel giardino a destra o dietro alla casa ma allora non è vero che sei c'è appena spuno ti vedo cardo ma non è vero che quando ti spuno ti vedo non ci sei nooo dimmi che non sei una di ste robe no no ma non ci sei dai cardo non ti trovo più adesso ho cambiato sei dentro la casa dai cardo sei un infame sei qua dentro dai caro non ti trovo eh ho perso guarda cos'ero era il divano nooo ero il divano ho cambiato tre volte prima ero la uiwola e poi sono diventato un divano dai facciamo così da adesso però dobbiamo dire cosa siamo ok va bene sì ciao